Carmine Carbonella è il diciottesimo centenario di Schitella. Adesso a Schitella con Carmine ci sono quattro centenari viventi. Dopo Majorano Domenico, Derrico Libera e Iacovone Nicola, anche Carmine Carbonella ha varcato il fatidico traguardo dei cento anni. Hai fatto sempre l'agricoltura? Tutti i miei agricoli, tutti i lavori, olive, se mettevi il grano, tutti i lavori in agricoltura. Hai fatto pure la guerra? Sono fatto pochi mesi, sette anni di vita militare. E dove sei stato? Sono stato 36 mesi in Africa settentrionale. Poi grazie a un generale che aveva saputo che mezzo a un maggiore che si comandava che aveva superato tre anni in quella terra. E il suo signore ha detto a dire che questa gente, 36 mesi in questa terra, non sono morte con l'arma delle morire malattie. Allora c'è una rinventriata in Italia, però al servizio sempre in Italia. Qual è il segreto per arrivare a cento anni, secondo te? Il mio segreto è stato sotto il comandamento di Dio. Che cosa mangia Carmine? Che cosa gli piace di più? Di più li mangia come verdura, gli piace tanto. La pasta con la verdura, la sera la verdura, la pastina o puramente pan cotto. Mangia di tutto. La mattina mangia anche mozzarella, prosciutto. Fa colazione abbastanza bene, con caffè pure.